La Procavese manda a K.O. il paterno a 4 minuti dalla fine. Per la squadra di Nino Strano la salvezza diventa un obiettivo ancora tutto da raggiungere. 2-1 è risultato in favore della formazione ospite. Discreta la presenza di pubblico, circa 500 sugli spalti. Al Falcone e Borsellino passano in vantaggio i rosso-azzurri. E' il minuto numero 16 quando il forte centrocampista ex Licata-Rosario Lamarca regala il momentaneo vantaggio ai suoi. Il gol nasce da un angolo, Lamarca è pronto a ribadire il rete e il pallone dopo un rimpallo. La Procavese però agguanta il pari prima dell'intervallo con De Caro che sorprende la difesa rosso-azzurro. Molto nervosismo in campo, Pippo Strano viene espulso e si rifugia in tribuna per seguire il resto del match. E quando sembrava che la partita stesse per concludersi in parità è arrivato il gol decisivo del difensore Mandri all'86 che ha gelato il paterno. A tempo scaduto anche l'attaccante rosso-azzurro Mastro Lilli viene espulso. La sconfitta mette il paterno in una situazione di classifica scomoda. Il margine sulla zona pericolo è solo di tre punti. Domenica prossima per i ragazzi di Strano difficilissimo derby in trasferta a Licata. Grazie. 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 Grazie.